I pezzati, la riusciuda da me dietro di noi e una dietro dietro questa è la seconda, no? un culo quando mancano due secondi da fine puoi dozzare e poi ci vediamo la lua bravo Zarius sinistra dietro di noi non ce n'ho nessuna siamo pronto scambi in tua bentola la voce numero 3 scambi in tua bentola scambi in tua bentola scambi in tua bentola dietro di noi qua 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 via mi fado in testa eh si ecco croce numero 4 grazie a tutti dietro di me io qui cazzo che fischia che ho pigliato mo che facciamo croce numero 5 e add io sto in testa io sto in testa vediamo al boss e qui dove stiamo no di spiegare su ce n'è questa locca palla ovviamente se ne ho questa era la quinta dovevamo fare gli addini questa era la quinta siamo morti a 4 e 47 andavano fatti gli add non ho capito perché hai chiamato l'ho trattato